Allora, buongiorno a tutte, per il momento siamo tutte donne. Mi presento, sono Pasqualina Morzillo e sono un'insegnante di matematica e scienze, penso un po' come voi, che da quattro anni, questo è il mio quinto anno, sono in comando al WWF e mi occupo proprio di scuole di formazione, sono la referente e quindi sto facendo questa bellissima esperienza legata ovviamente ai temi che sono a me molto cari, quelli dell'ambiente, della tutela, della biodiversità, della natura in senso lato e soprattutto la cosa che mi intriga di più negli ultimi anni è le esperienze che stiamo facendo, poi in corso d'opera un po' vi racconterò, di apprendimento all'aperto e quindi con le aule natura che stiamo realizzando, quindi un po' di cose. Siamo un gruppo piccolo stamattina, per cui come a scuola con i gruppi piccoli ci sono i pro e i contro, il pro è che potremmo interagire, sarà veramente una chiacchierata tra amiche e il contro è che come in natura in pochi diminuisce la biodiversità, diminuisce l'arricchimento, ma noi insomma ci faremo bastare. Quindi così come ho fatto io vi pregherei di presentarvi una per una anche qual è la scuola, cosa fate, cosa vi intriga e perché la scelta di seguire questo percorso? Chi inizia? Come vi vedo? Barbara? Non ti sento, hai il microfono. Allora, ho disattivato i microfoni di tutti e quindi dovete riattivarli. Ok, noi siamo insieme, ci vedete? Sì. Ok, siamo Barbara e Irene dell'Istituto Comprensivo 3 di Grosseto e niente, siamo qui solo in due perché come dicevo prima la nostra collega con cui abbiamo seguito è impegnata in un corso di formazione sulla sicurezza, che è un obbligatorio, ma sapete tutti voi che lavorate a scuola ed entrambe insegniamo lettere in una classe seconda, cioè abbiamo anche altre classi, però nello specifico siamo qui per le nostre seconde dell'Istituto. Come mai avete scelto di partecipare a questo percorso? Allora, la nostra collega assente, appunto, aveva partecipato anche l'anno scorso alla formazione insieme e poi avevamo portato nelle rispettive seconde avanti questo progetto insieme e quest'anno insomma ci ha proposto anche a noi di fare la formazione, io in altri istituti avevo già fatto School Food e allora abbiamo aderito e anche visto che comunque l'anno scorso l'abbiamo portato avanti nelle nostre classi anche per farlo con maggior cognizione di causa. Lo stesso modulo? Sì, allora, diciamo che noi ci siamo riservati, faccio un esempio, l'altra volta abbiamo fatto il modulo sulla parità di genere, la formazione. chiaramente abbiamo aderito alla formazione insomma prevista, abbiamo classi molto differenti sia diciamo, insomma come tutte le classi con esigenze specifiche, quindi valuteremo in corso d'opera anche col consiglio di classe, insomma con tutti i docenti come e quale modulo sia più adatto, diciamo al percorso, qui c'è confusione, scusate, non so se sentite chiudere le porte ma la gente le riapre. È un bel grande. Perché c'è, la direzione ci ha diciamo detto di venire a scuola, però come sapete bene questi sono giorni in cui l'allestimento delle aule, la formazione di tutti, penso che c'è un po' di nuovo e quindi insomma sì, sicuramente poi porteremo avanti questi moduli, chiaramente dobbiamo vedere un po' quale meglio si addisce, anche al percorso di tutto il consiglio di classe, perché noi comunque lo proponiamo poi come un'attività trasversale, insomma. Certo, certo. Bene. La collega, vabbè, si è allontanata un attimo. Alessandra ti vedo. Sì, buongiorno, io sono Alessandra e insegno lettere nell'Istituto Comprensivo Don Milani di Pian di Scò, anch'io appunto ho riferito la nostra collega Silvia Francalanci aveva un impegno e quindi mi ha detto di riferirlo. Anche io ho scelto di fare questo corso di formazione perché i nostri colleghi l'avevano già fatto e quindi ci hanno consigliato, anche la dirigente, insomma è un, diciamo anche all'interno del percorso di educazione civica, è un, è un corso che ritiene utile per da seguire proprio per proporlo ai nostri ragazzi. Ok. Iselin, se non so se ho pronunciato bene. Va benissimo Iselin, sì, sì, buongiorno. Io sono nella scuola di Alessandra, insegna matematica e scienze. Sicuramente i temi del progetto mi interessano, mi stanno a cuore tutti e sono importantissimi per noi, per l'educazione dei ragazzi. Sarò sincera che io mi sono iscritta anche con una certa pressione dall'alto, diciamo, perché nel senso ho sentito un po' questo carico di responsabilità anche e l'esperienza dell'anno scorso in cui la mia collega di scienze si è ritrovata a metà percorso, diciamo così, un po' costretta a partecipare e allora ho pensato se mi devono calare le robe dall'alto poi a metà percorso credo sia meglio fare le cose fin dall'inizio, perché poi come scuola, se non mi sbaglio, abbiamo inserito questo percorso nelle FTOF e insomma è un progetto di istituto per cui partecipo molto volentieri, ecco, però siamo sempre pieni di cose e poi ieri ho scoperto che queste 30 ore molto probabilmente me le devo un po' sbolognare da me se non riesco a trovare collaborazione nei colleghi, è un po' 30 ore, sono tante, ecco, le devo fare un insegnante solo, però come contenuto ovviamente mi piace molto, mi sono piaciute anche molto le due formazioni che ho appena fatto, cioè mi scorsi. Bene, io ormai è un po' di anni che collaboriamo con la fondazione e quando ho visto i moduli, l'impostazione, eccetera, da insegnante ho pensato subito, toh, ma guarda che bella cosa, perché coinvolgere i docenti che in un momento come questo, ma anche prima, da sempre, eccetera, sono in qualche modo sovraesposti a un mare di possibilità, di cose più o meno buone da calare nella classe, eccetera. Qui di utile ho trovato subito l'impostazione modulistica strutturata, molto strutturata, poi in corso d'opera abbiamo anche raffinato la scheda e soprattutto avete la figura del tutor, che è qualcosa che direi all'avanguardia, cioè un qualcuno che segue poi la revisione, la fine anno, come è andata, eccetera, per leggere le criticità è una buona procedura, credo. Poi calata nelle singole classi, nelle singole scuole ci saranno infinite possibilità nel bene e nel male, perché noi lavoriamo fortunatamente con materiale umano, quindi ci saranno tutte le variabili possibili. Allora, è inutile dire, veramente siamo un bel gruppo, quindi io come impostazione, condivido con voi anche l'impostazione, ho rappresentato in una presentazione PowerPoint un po' tutto il filo conduttore e con intervallate, con delle esperienze inizialmente emozionali, perché è importante il momento emozionale per la formazione e per l'apprendimento, perché è quella spinta a livello proprio fisico e cerebrale per l'apprendimento, quindi sempre una lezione dovrebbe per coinvolgere gli alunni iniziare con un momento emozionale e quindi lo faremo anche noi. Dopodiché ci saranno vari input di vario genere legati alle tematiche che seguiremo e con video, altre esperienze e quant'altro, in cui cercherò anche il vostro coinvolgimento, non so se avete mai utilizzato il Padlet, quindi faremo qualcosa insieme con quello, poi avremo la possibilità di interromperci per una pausa o due pause da 10 minuti, direi, non so anche se voi siete d'accordo, o un'unica pausa di 20 minuti, in maniera tale da avere anche la possibilità del pit stop. E poi in ultima analisi andremo ad evidenziare un po' delle attività e come è stato gestito anche il modulo che ci interessa. Quindi provo a condividere, io non ho molta dimestichezza con Teams, in genere per lavoro uso Zoom e quindi ho fatto delle prove ieri, prego che sia tutto ok, altrimenti ci arrabbiamo. Passiamo al piano B. E già era diverso. Io ieri avevo provato a condividere una finestra per volta e quindi mi condividevo Google, invece adesso mi chiede direttamente, riprovo scusate, sì sì. Grazie. Eccoci, c'eravamo un attimo perse. Ecco. Vedete il mio schermo? Scusi, noi non vediamo niente. No, ancora nessuno. Credo che stia caricando la condivisione. Scusi, noi non vediamo niente. Vediamo. Scusi, noi non vediamo niente. Non lo so perché fa così. Comunque prima con la condivisione dello schermo vedevamo, magari aprendo semplicemente una finestra alla volta, potevamo vedere. Guarda, è assurdo, io adesso vi sento ma non vi vedo. In quel caso credo che siano state modificate la vista delle persone, quindi in alto c'è vista, consente di modificare la visualizzazione, probabilmente lì c'è… è stato flaggato qualcosa? Allora, nel frattempo ne approfitto perché si deve essere disconnessa… ecco, ora sta rientrando la docente. per quanto riguarda le due docenti che sono della Don Milani di Pian Disco, io sono la vostra tutor, quindi per qualsiasi cosa potete già iniziare a contattarmi anche telefonicamente senza nessun problema. La vostra referente ha già il mio contatto telefonico, quindi quando volete anche per suggerimenti, per come impostare le lezioni, perché non vorrei che diventassero un carico, magari le 30 ore ve le immaginate come un carico durante l'anno scolastico, ma se impostate bene in maniera trasversale, cioè vi renderete conto che è veramente un lavoro che tanto avreste svolto tranquillamente all'interno della didattica giornaliera della vostra materia. Ora vediamo. Ok, allora, vabbè, può darsi che anche successivamente ci sarà qualche rallentamento. Allora, a proposito di questi momenti emozionali, incomincerei con questo video che è del WWF, non a caso, We are Unconnected. Diciamo che tutto il percorso, secondo me, ha l'obiettivo educativo trasversale di educare a leggere la complessità e cercheremo di seguire questo filo conduttore in tutta la, diciamo, l'esperienza di questa mattina. Ditemi se sentite l'audio. E sentite l'audio. Grazie. 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 Bene, era uno stimolo iniziale e continuerei con quanto stavamo annunciando. Cioè, mi sentite? Sì, la sentiamo. Ok. Continuiamo con la presentazione. A questo punto immagino che è necessario interrompere la condivisione per aprire una nuova scheda. Voi riuscite a vedere tutto il mio schermo o solo questa scheda qui? Sì, è già interrottata. Al momento, sì. Ok. Bene. Quindi, riprendo la condivisione e vi faccio vedere. No, è... E' Tims proprio che necessita dei dati da me in questo momento che non vorrei dargli. Santa Patienza. Ok. Microsoft Teams vuole utilizzare i dati riservati memorizzati in Microsoft Identity. Per consentire l'azione, inserisce la password per il portachiavi login. Rifiuto. Per la condivisione non dovrebbe richiedere queste informazioni. Voi vedete... No, non vedete perché non ho la condivisione. Per consentire l'azione, inserisci la password. Io rifiuto, ma mi riporta sempre indietro e in qualche modo mi ostacola. Io spesso questi problemi risolvo utilizzando la pagina anonima del browser. invece di usare una pagina anonima. Ah, non mi è... Questa... Ho fatto tante prove ieri, proprio per essere sicura. Poi vorrebbe una password... Salva... Salva dei dati a volte, cerca di... Darle pagina anonime, se volentieri questo tipo di cose non... Non avvengo. Vabbè. Perché io adesso non mi vedo più. Risento però. Non saprei. Qualsiasi cosa clicco. Se no, devo riprovare a fare la... La connessione. Uscendo e rientrando magari? Sì. Ora magari cambiando... Non lo so. Non so come aiutare. No, vabbè, ci riusciremo. La prima tipologia di condivisione però era visibile, anche se magari era un pochino più lenta nel caricare le pagine... Cioè, aprendole una dopo l'altra, come preferisce. Eccoci. E dovrò tenere sto coso davanti. Spero che sia solo questo. Per il momento procediamo così. Ok. Allora, prova a condividere... La presentazione. E proviamo con lo schermo intero. Ok. Vedete la presentazione? Adesso sì. Vediamo le slide, sì. Eureka! E vedete anche l'intruso al lato a destra? Sì, vediamo anche quello. E quello era che mi... Cioè, sono terribili, guardate. Terribili. Secondo me tante cose sono fatte proprio apposta. Vabbè. Allora, stiamo ragionando, ci proviamo in tutti i modi, di creare questo percorso che è legato al benessere e alla salute. Per gli alunni di seconda media. Il titolo non a caso è Ambienti in salute e benessere. E io ho scelto come, diciamo, proverbio conduttore, ogni cosa è connessa ad ogni cosa. Ed è un'espressione del popolo Aida che vive in un posto fantastico, le isole Aida Guai, sulla costa del Pacifico, del Canada. Ed è un popolo paragonabile agli indiani d'America, che io ho conosciuto, leggendo questo libro, qualche anno fa, di Giorgio Vacchiano. Non so se ne avete mai sentito parlare di Giorgio Vacchiano. È un ricercatore italiano dell'Università di Torino. Però pensate, è stato anche collaboratore del WWF. Per noi ha registrato un video che vi consiglio di andare a vedere. È giovane, con un approccio molto accogliente. Ma pensate, è stato individuato tra le 15 menti che potranno aiutare a cambiare il mondo. E in questo libro c'è veramente tutta la delicatezza di un animo in sintonia con la natura. E per la prima volta in questo libro io ho sentito parlare del popolo Aida. e dalla sua propria voce volevo farvi sentire che cos'è il popolo Aida e che cosa ha fatto. Forse con un risvolto più positivo rispetto a quello che noi conosciamo essere la storia degli indiani d'America. Ora, poiché ho fatto la condivisione di tutto il mio schermo, ditemi se riuscite a sentire perché ho qualche dubbio. No, non riusciamo a sentire così. No? No. Era come pensavo. Perché in effetti quando, non so perché, quando condivido tutto il mio schermo non mi condivide l'audio. Ok, ormai il mezzo ce l'abbiamo, speriamo. Rinterrompo la condivisione e condividerò solo la scheda della... Abbiate anche voi un po' di pazienza. condividi l'audio. Ok, perché ne vale la pena. Ci siamo? ditemi sempre se ascoltate. Sì, ora sentiamo. Bene, mi fa piacere. In uno dei luoghi più remoti della terra vive un ecosistema tra i più rari e straordinari del mondo. La foresta pluviale temperata delle isole Aida Guai, a largo delle coste della Columbia Britannia. Cedri rossi millenari a ridosso del mare. Maestosi abetici, di pressi sulle... Questa telecamera di sicurezza a lampadina sta rivoluzionando il settore della videosorveglianza. Le aziende che si occupano di sicurezza domestica scusate... ...montagne bioelevate. Specie di piante e animali che non esistono in nessun altro luogo del mondo. Il segreto è nell'acqua. L'umidità dell'oceano Pacifico si scarica sugli alberi e ritorna all'oceano in un reticolo di ruscelli e cascate. Tra giugno e settembre milioni di salmoni risalgono coi ruscelli nel periodo della riproduzione. Spesso terminano la loro corsa tra le pauci degli orsi neri che abitano le isole, anch'essi appartenenti a una varietà endemica. Gli orsi non ingurgitano per intero i salmoni ma consumano solo le parti bioenergetiche scartando il resto. Le carcasse del pesce restano a decomporsi sul suolo arricchendolo di sostanze nutritive. La foresta più fertile del mondo viene concimata con i salmoni. Ogni cosa è connessa a ogni cosa, anche l'uomo. Qui abita l'unico popolo tra i nativi americani che non è mai stato sconfitto dai colonizzatori europei. Da 17.000 anni gli Aida vivono su queste isole. La foresta produce il loro cibo, le medicine di cui hanno bisogno, la corteccia per i loro vestiti, il legno per le loro case comunitarie e le loro canoe scavate in tronchi di cedro rosso e capaci di solcare le onde del Pacifico. Tre volte la sopravvivenza degli Aida venne messa a rischio. Prima con le epidemie di vaiolo portate dagli europei, poi con il colonialismo culturale che cercò di sradicare le radici della comunità. La terza volta fu a causa del livello insostenibile di sfruttamento forestale che il governo canadese permise fosse praticato sulle isole, diventate proprietà federale e cedute in concessioni alle multinazionali del legno e della carta. Due terzi delle foreste primarie sparirono nel giro di 30 anni fino a quando nel 1985 guidati dalle anziane e dagli anziani del popolo, gli Aida decisero che poteva bastare e misero in atto una protesta non violenta. Ripresi dalle telecamere di tutto il mondo, Alleyel Island bloccarono per tre mesi i tagli di rapina dei loro alberi millenari. Vent'anni dopo gli Aida divennero la prima nazione nativa ad ottenere in tribunale il diritto di coamministrare le loro risorse naturali. Oggi la comunità redige un piano di gestione forestale sostenibile che non esclude il prelievo del legno ma ne decide l'intensità sulla base delle esigenze materiali e spirituali della comunità e della conservazione dell'ecosistema. Questa vittoria ha segnato l'inizio del rinascimento degli Aida. La lingua nativa rifiorisce, gli artisti sono tornati a lavorare i totem nel legno dei cederi. Usando come prove i tronchi scavati in forma di canoa e abbandonati nella foresta al tempo del vaiolo, la nazione Aida ha richiesto alla Corte Suprema il titolo di proprietà e uso esclusivo delle proprie terre. Un processo storico ancora in corso e ha aperto la strada a simili richieste da parte delle comunità native di tutto il mondo. Il popolo Aida ha una storia da raccontarci. Come gli alberi delle sue foreste ha saputo riprendersi dalla più grande catastrofe della sua storia, avvicinandosi a essere la prima nazione aborigina a cui possa essere restituita la piena sovranità. Un popolo che definisce cittadino onorario chiunque ne rispetti gli ideali, così come sono descritti nella premessa della Costituzione Aida. La nostra cultura è fondata sul rispetto e l'intimità con la terra, con il mare, con l'aria intorno a noi. Come le foreste, le nostre radici sono così profondamente intrecciate che gli eventi più gravi non potranno sopraffarci. Avete sentito? È davvero commovente. ed è anche un ottimo spunto per innanzitutto dare l'esperienza di un popolo che ce l'ha fatta in contrapposizione a quello sradicamento, a quell'annichilimento al quale noi abbiamo assistito anche attraverso i film, il cinema, di quello che è stato invece il popolo dei pelli rossa, il popolo dei nativi americani, ma soprattutto perché questa è una testimonianza anche dal punto di vista biologico di una foresta che è una foresta particolare perché è ricchissima di specie, di diversità, ma non è la classica foresta pluviale di tipo equatoriale. è pluviale, quindi è ricca, ma è in una zona temperata, quindi è una foresta pluviale temperata, ce ne sono pochissime così ricche e quindi se non ci fosse stato il popolo Aida a difenderla strenuamente sarebbe stato un ricordo di pochi e avremmo visto praticamente la devastazione che era già iniziata, quindi mi sembra un ottimo esempio anche associato a un'attività che si può fare con i ragazzi insieme alla, non so se avete avuto modo di apprezzare Stefano Mancuso, la Costituzione delle piante è anche un ottimo, un bel libro nel quale proprio si avvia con le piante a redigere una costituzione e quindi ho visto che siete in due di insegnanti di italiano e magari può essere interessante anche questo aspetto. Ritorno, non ritorno alla presentazione per evitarci tutti questi problemi ma tornando quindi al stiamo parlando della connessione, avete visto come dice così come le radici di questi alberi dal profondo sono legate se siamo insieme non abbiamo paura degli eventi che verranno quindi diciamo che le foreste sono qualcosa che è di un'importanza ma ricoprono un terzo della superficie terrestre e sono ovviamente di un'importanza fondamentale quindi ritorneranno spesso nei nostri discorsi stamattina. A proposito di risorse volevo fare un po' un giretto con voi in questo sito della FAO che però devo comunque condividere come scheda eccolo qua è un sito della FAO sulle foreste lo vedete? Sì vediamo il video Sì sì vediamo il video Sì no non c'è audio e quindi lo discuteremo un po' insieme in qualsiasi momento anzi vi chiederò anche di partecipare un sito della FAO fatto in una maniera che trovo molto accattivante didasticamente molto valido ma ma non è un ma il sito è la lingua più vicina a noi è l'inglese o al massimo lo spagnolo ma non c'è l'italiano mentre invece il report si può anche scaricare in italiano però trovo che nell'ottica di un approccio multidisciplinare potrebbe essere interessante lavorarci con le colleghe di inglese quindi andiamo a visitare un po' le foreste intorno al mondo e anche come vi ho detto quante ce ne sono come sono fatte qual è il loro destino allora un terzo come abbiamo detto della terra è ricoperto da queste foreste il che significa che sono 4 miliardi di ettari è già un ettaro è tantissimo 10.000 metri quadri immaginiamolo moltiplicato per 4 miliardi di ettari per 4 miliardi insomma pensiamo di stare al sicuro però vediamo un po' che cosa succede diciamo che questo grafico molto in maniera molto immediata ci ci racconta che per ognuno di noi e noi siamo circa 7 miliardi c'è mezzo ettaro che sarebbe in proporzione come vedete dove sta all'omino il mezzo ettaro che ci tocca di verde bene questo significa che ce ne abbiamo abbastanza diciamo che il 54% delle foreste del mondo sono solo in in 5 paesi la federazione russa il brasile il canada gli stati uniti d'america e la cina e sono distribuite in questo modo sicuramente non l'avremmo detto che la la federazione russa supera il brasile istintivamente avremmo detto forse altre volte ci abbiamo provato avremmo detto che ce n'è di più in brasile perché associamo sempre il brasile alla foresta amazzonica ed ecco com'è la distribuzione 310 milioni di ettari negli Stati Uniti 220 milioni di ettari in Cina e 1870 nel resto del mondo adesso ogni tanto il sito propone dei piccoli questionari proviamo a farlo in effetti in accordo alla tua percezione di foreste nel mondo quale regione climatica pensi che contenga la maggior parte delle foreste quella boreale quella temperata quella tropicale quella subtropicale che dite? aspetto la vostra risposta tropicale 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 riaggiornare il sito spero che non succeda niente di male vedete no? ho riaggiornato giusto per per non riavere altrimenti non ha senso giocare così ah sì eccolo quindi tropicale adesso lo sappiamo corretto della regione climatica la zona tropicale è quella che contiene la più alta percentuale di feresta il 45% è molto carino anche guardate questo grafico in proporzione ci rappresenta la distribuzione di queste tipologie di foresta per cui al verde scuro corrisponde quella tropicale abbiamo detto essere il 45% a livello globale e la vediamo distribuita più o meno nella fascia tropicale quindi tra Africa centro sud America e un po' le isole del Pacifico se vogliamo invece vedere solo la foresta boreale che è il 27% ce ne accorgiamo che è di meno è quella che praticamente abita la zona nord dell'Europa e dell'America quella temperata di cui parlavamo prima è un po' questa della terra del fuoco e di alcune zone dell'Australia e quella del più o meno centro centro Europa fino alle Alpi e parte del ovviamente il Canada il Nord America l'abbiamo appena detto in effetti le le isole di cui parlava l'Aida Guai sono qui in questo in questa estremità del del Canada e e infine quelle subtropicali che sono l'11% si vede sono pochissime un po' spennellate tra il Sud Africa e il Sud dell'America e un po' lo siamo anche noi provo ad ingrandire eccoci quindi i nostri appennini e parte ovviamente dell'Europa dell'Europa quindi anche questo è carino da scorrere con i ragazzi andando a individuare poi procede con la suddivisione delle foreste in foreste che si rigenerano naturalmente foreste piantate ovviamente le foreste piantate sono quelle a uso dell'uomo e il 93% delle foreste quindi delle aree globali sono composte di foreste che si rigenerano naturalmente e il 7% sono piantate fortunatamente le aree che si rigenerano naturalmente ovviamente sono diminuite dal 1990 ma le aree di piantate sono aumentate ovviamente questo è il grafico che lo rappresenta vediamo dallo zero in negativo quanto perdiamo di aree naturalmente rigenerate di foresta e quante invece ce ne sono di foreste piantate ovviamente ovviamente per decade quindi stiamo parlando di 1990 fino al 2020 se non vi è chiaro qualcosa dei grafici ci ritorniamo magari ne guardiamo insieme le le foreste le foreste piantate quindi le pianta le grandi piantagioni coprono circa 131 milioni di ettari che è quindi questo 3% delle aree di foreste il 45% dell'area totale delle foreste piantate andiamo a vedere questo andamento per quanto riguarda le regioni specie introdotte specie native questo perché è importante anche ad un'analisi diciamo della geografica ma anche socio economica perché è importante guardiamo un po' in Africa la percentuale di specie introdotte è molto alta le specie introdotte sono il 70% come in Europa poco nel nord america in oceania tantissimo in sud america pensate a tutte le i palmeti che sono stati introdotti per l'olio di palma ed è una richiesta dell'occidente nel diciamo un po' sfruttare il territorio che cosa sono le foreste primarie qua si parla di foreste primarie sono quelle che si rigenerano naturalmente e che sono cambiate poco nel corso delle migliaia di anni nel corso dei millenni quello che noi stiamo registrando e questo breve video diciamo ce lo dimostra quello di cui parliamo più o meno quotidianamente è deforestazione e incendi deforestazione più o meno indotta dall'uomo ma gli incendi sappiamo che sono pochissimo casuali molto più generati dalla mano dell'uomo ma in particolare se noi andiamo a guardare a livello globale si legge proprio un un'intenzione malevola che ovviamente noi analizziamo qui parla di perdite e conquiste per le foreste andiamo a guardare un po' il grafico al solito ci riesce a dare meglio un'idea sempre ragionando per grandi aree globali quindi continenti Asia Oceania Europa Nord e Centro America Sud America Africa che cosa direste da questo grafico l'andamento annuale le aree nelle regioni dal 90 al 1990 al 2020 abbiamo lo zero volete discuterne un po' analizzare un po' commenti se non ho capito bene che cosa allora in questo grafico c'è ci sono le aree di foresta tra al netto tra perdite e riforestazione diremmo nelle regioni dal 1990 al 2020 abbiamo detto c'è l'Asia l'Oceania eccetera da questo grafico che cose vinciamo chi è che sta perdendo aree di foresta l'America del Sud dell'Africa l'America del Sud dell'Africa che sono quei luoghi del mondo che sono depredati dall'Occidente guardate in Asia e in Europa come praticamente il bilancio è positivo siamo al di sopra dello zero mentre in Sud America e in Africa abbiamo ben cinque punti sotto lo zero nelle nelle tre decadi come dicevamo prima quindi significa che è chiaro che sono quelli i luoghi dove sta avvenendo il massacro ci ripropone un'altra domanda e qui attenzione sempre in accordo come dicono gli inglesi alla tua percezione dello stato delle foreste pensi che l'andamento di perdita di foreste stia aumentando o sta diminuendo l'andamento dal grafico sembra dipendere molto dal luogo al luogo in Oceania sembrava in aumento mentre magari nell'Africa è in perdita in America del sud è in aumento fondamentalmente anche se rimane sotto ancora che percezione abbiamo quindi che globalmente l'andamento sale o scende diremmo noi sta salendo o sta rallentando vabbè lanciamoci in una risposta che più o meno raccoglie l'idea che ci stiamo facendo e poi andiamo avanti vediamo se sei in accordo in mi auguro che stia rallentando vediamo corretto è vero malgrado noi stiamo perdendo ettari di foresta ma l'andamento tra la perdita e il guadagno diremmo l'andamento sta diminuendo andiamola a guardare con il grafico vedete dal 1900 nel tempo poi perché un andamento è nel tempo quindi vedete nel globalmente nel 1990 e gli anni 2000 noi perdevamo il 7,8% di foreste mentre nel 2000 il 5 oggi il meno il 4 sicuramente abbiamo visto non è distribuito equamente nel mondo ma c'è una maggiore attenzione ci sono luoghi dove la conservazione funziona di più ecco qui la deforestazione continua ma ha un andamento più lento si stima che 400 milioni di ettari di foresta sono stati persi in giro per il mondo dal 1990 ma che l'andamento della perdita di foresta sia sostanzialmente in declino auguriamocelo in più recenti il periodo degli ultimi 5 anni 2015 2020 l'andamento annuale di deforestazione è stimato intorno ai 10 milioni di ettari al di sotto dei 12 milioni di ettari che erano nel 2010 2015 ecco qua leggiamoci quest'altro grafico in basso in grigio abbiamo la deforestazione l'espansione delle foreste in verde in positivo quindi più o meno un andamento diciamo che lo stiamo perdendo nell'espansione delle foreste ma sta diminuendo la la deforestazione a livello globale se volessimo guardare solo come abbiamo visto prima separatamente diremmo è assurdo perché l'Africa e il Sud America sta perdendo tantissimo però a livello globale contemporaneamente aumentano tantissimo le aree protette in Europa e nel Nord America si bilancia un po' ma siamo ancora lontani da quello che dovrebbe essere perché vuoi i cambiamenti climatici vuoi le spinte economiche che analizzeremo dopo noi stiamo bruciando bruciando foreste quindi qual è il rischio che che corrono le foreste è che si perde biodiversità oltre che tutta l'anidride carbonica che era conservata negli alberi perché gli alberi se noi chiediamo a un bambino perché è importante l'albero perché ci dà l'ossigeno è vero è importantissimo che ci dia l'ossigeno altrimenti noi non ci saremmo evolutivamente non ci saremmo proprio attualmente non ci non potremmo continuare a vivere ma quello che trovo meraviglioso delle piante è che dal punto di vista biochimico la meraviglia è che attraverso la reazione chimica più importante secondo me la fotosintesi clorofilliana le piante fanno questa meraviglia trasformano un gas che è l'anidride carbonica in materia che è il il carbonio inglobato nella materia organica quindi i mobili adesso mi guardo la sedia sulla quale sto il letto le doghe l'armadio è tutto opera della fotosintesi clorofilliana di queste meravigliose creature che sono gli alberi quindi noi abbiamo tutto questo perché ci sono le foreste e con gli incendi in un colpo solo pensate anche che tutta questa anidride carbonica viene intrappolata e viene sottratta all'atmosfera facendo una grande operazione di contrasto ai cambiamenti climatici ecco perché Mancuso poi lancia la sfida piantiamo alberi ovunque sia possibile facciamo ed è quello che più o meno ci si sforza di fare piantare alberi significa continuamente contrastare inglobare quell'anidride carbonica che sta diventando nostra nemica ma contemporaneamente con gli incendi che cosa succede? Non solo abbiamo eliminato la macchina chiamiamola impropriamente così la macchina meravigliosa che faceva la fotosintesi clorofilliana e inglobava tutta questa CO2 ma contemporaneamente abbiamo immesso in un colpo solo nell'aria tutta quella CO2 che quella pianta da anni a volte da secoli stava come dire timidamente e tenacemente custodendo con un meraviglioso meccanismo di deposito e quindi questo in poche parole è l'importanza delle nostre piante dei nostri alberi ancora qui si parla di proteggere e gestire le foreste proviamo a rispondere a questa domanda sempre in accordo alla nostra percezione delle foreste nel mondo secondo noi quale regione ha la più alta proporzione di foresta in aree protette quindi diremmo quale regione del mondo protegge di più le foreste Africa Asia Europa Nord e Centro America Oceania Sud America qui ci giochiamo proprio la nostra reputazione ragazze che cosa rispondiamo vogliamo analizzarne una per una l'Africa un po' abbiamo visto no perde tanto vero Asia l'Europa siamo noi cosa facciamo per proteggere o facciamo tanto per proteggere il nord il nord e il centro america se escludiamo il sud america forse il nord america qualcosa farà il sud america abbiamo visto è tra quelli che perde di più quindi immagino non so quanti ne abbia di protette di aree e l'oceanica l'oceania che tutto sommato conosciamo poco è troppo lontano da noi che dite cosa rispondiamo Asia Asia? sottopongo no no non l'avremmo mai detto il sud america ha la più alta proporzione di foreste in aree protette il 31% evidentemente si sta mettendo in moto il meccanismo della protezione ma molte sono ancora le aree immaginiamo anche in proporzione perché il sud america è molto grande quindi in proporzione ce ne sono tantissime che vengono depredate ma si cerca di proteggere il 31% vediamo un po' proporzione di aree protette di foreste protette nel 2020 l'africa ce ne ha un 27% l'asia 25% il sud america 31% e la nostra europa ai 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 appena il 6% il nord america l'11% l'oceania il 16% vabbè il resto del mondo è un po' il 18% questa è davvero una sorpresa e questo vabbè possiamo ah questo è anche carino giusto per curiosità eh andiamo a guardare avete visto come sono gradevoli immediati questi queste rappresentazioni grafiche molto secondo me utili anche da utilizzare proprio in classe qui ci dà un'idea grafica della distribuzione delle foreste tra pubblico privato e sconosciuti questa questa dicitura diciamo che non mi è molto ben chiaro ma sta di fatto sembra quasi l'uomo cattivo che sta dietro vediamo che in Africa il 19% delle foreste sono appartengono a sconosciuti e mentre invece guardate nella nostra Europa fortunatamente il 90% delle foreste sono pubbliche insieme all'Asia vabbè il 77% e nel Nord America il 62% mentre invece facevo caso che in in oceani abbiamo quasi la metà tra pubblico e privato anche questo dato che insomma non conoscevamo e quindi quando parliamo di foreste parliamo di biodiversità perché le foreste sono degli scrigni di biodiversità si stima che 399 milioni di ettare di foreste che sono assegnate a foreste primarie un aumento di 119 milioni sta avvenendo dal 1990 il che ci fa piacere circa il 10% delle foreste circa il 10% delle foreste nel mondo ospitano la conservazione della biodiversità quindi per certi versi ci dà un'idea di quanto sia importante e questo vabbè concluderei con questo eccolo qua il report che potete scaricare liberamente e poi analizzare andando a qui mi pare che sia possibile sceglierlo anche in in italiano adesso non vorrei ancora interrompere la condivisione se apro questo avete visto qualcosa di diverso la immagine ancora sulle foreste no siamo ancora nella parte dove vediamo il download del report ok quindi devo interrompere la condivisione e aprire l'altra scheda allora ci siamo fatti un po' un'idea no del di come di come dove la gestione la distribuzione l'importanza delle foreste ma perché sono importanti le foreste questi di questi mega ecosistemi vorrei un po' interagire con voi e quindi ci vi metto in chat il il link così potete interagire sul padlet e poi vi condivido la pagina ho capito eccolo dunque con questo potete intervenire e andiamo a fare una sorta di brainstorming ok lo vedete sì lo vediamo allora adesso come con la modalità brainstorming quindi quello che ci passa per la testa proviamo a pensare ma che cosa ne ricaviamo in senso lato dalla natura quindi adesso stavamo analizzando le foreste però in senso lato dalla natura che cosa quali sono i beni e i servizi che otteniamo potete anche mandare più più post con Grazie. Dobbiamo mettere le parole, no? Sì. Mi dici e scrivi qualcosa di fantastico, non credo che sarà una fantastica. Cibo. Brava. Bene, il cibo è sicuramente la prima cosa che viene in mente a tutti. Siedo scusa, Barbara Donati, la docente credo abbia dei problemi ad accedere all'interno di Padlet e ha scritto aria pulita. Ah no, ok, c'è riuscita? Ah ecco, potete anche firmarvi, aria pulita è il nome, così. Sicuramente ne abbiamo parlato, aria pulita, cibo, acqua, prodotti vari. Ok, acqua sì, forse la prima cosa che ci viene in mente. Brava, relax. Sono di quei beni della natura che spesso sottovalutiamo. Esatto, la bellezza. Ho scelto quest'acquerello proprio perché anche se per grandi linee si delinea quella tranquillità, quella pace di un paesaggio che poi può essere anche un paesaggio toscano, vero? Forza che ci viene in mente qualche altra cosa. Gli spazi aperti, sì. Prodotti che cosa intendevi? Cioè volendo possiamo anche… Cosa ci viene in mente? Eppure la natura ci dà anche molto di più. Se penso… Ecco, ecco, anche opportunità di lavoro. Ancora… Poi andremo a guardare qualcosa di più specifico. Ah, io volevo… Volevo partecipare. Mi copio il link su WhatsApp. Ah, io volevo… Forza accompagnate anche con commenti, eh, quello che scrivete, se volete. Non sento le vostre voci. Ecco il gruppo piccolo che non si fa sentire. È come in classe, quando ci sono 30 alunni è un vociare continuo che è necessario il moderatore. Con i gruppi piccoli, invece al contrario. Vabbè, il moderatore è necessario, ma per animare. Io ho scritto cibo all'inizio così, un po' perci. Però in realtà… Forza benessere anche. Mi era venuto in mente tutto. Cioè c'è qualcosa che abbiamo che non viene dalla natura. Eh, anche questa è una bella osservazione. Perché anche quello che noi trasformiamo in qualche modo è partito da un elemento naturale. Certo. Sport e benessere, opportunità di lavoro. Certo. Dove siamo? Vogliamo aggiungere qualche altra cosa? Sì, medicine. Ottimo. Aggiungerei qualcosa. Tipo. Tipo. Aggiungere. Aggiungere. cosa ne pensate mitigazioni climatiche per tutto quello che abbiamo detto c'è qualcun altro che sta intervenendo grazie 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 ancora qualcosa questo ovviamente ce lo conserviamo poi magari se abbiamo tempo ci ritorniamo grazie c'è qualcun altro che sta aggiungendo o pensate che vada bene così poi magari ci ritorniamo alla fine per vedere se se ci viene in mente qualche altra cosa mi dà l'immagine di qualcuno che sta operando non so se avete concluso datemi conferma ah ok io credo che abbiano concluso le docenti ok interrompo la condivisione ritorniamo a noi ora io vi propongo di interrompere per un attimo se siete d'accordo e magari o ci interrompiamo adesso per 20 minuti oppure 10 minuti poi magari facciamo altri 10 minuti più in là riprendiamo il discorso un po' da quali sono i servizi che ci dona la natura ma in particolare volevo qualcuno ha scritto relax ed è assolutamente vero volevo farvelo sentire dalla dottoressa Gemma Calamandrei che ci racconta perché ci piace passeggiare nei boschi e perché ci viene indotto questo relax allora condivido ovviamente non avremo modo di vedere tutto il riconosciuto come un elemento fondamentale non avremo modo di vedere tutto il video anche se ve lo raccomando Gemma Calamandrei è una dottoressa dell'Istituto Superiore di Sanità aspetto dal minuto 3 3 allora lei ha registrato questo video che troverete su YouTube ma anche sulla piattaforma WWF One Planet School per raccontarci una serie di esperimenti che sono stati fatti sui mammiferi a proposito di molecole che vengono rilasciate dagli alberi in ambienti boschivi e degli effetti che hanno sul nostro organismo per entrare un pochino di più nell'effetto di questi di questi composti organici che parlavo nella positiva precedente vediamo adesso in quest'ultima in questa seconda in quest'altra slide come la ricerca preclinica cioè la ricerca sui modelli animali laboratorio ha indagato sugli effetti di questi di questi di terpeni e si è visto che la somministrazione nella dieta a proditori particolarmente top e ratti di terpeni come il pinene o il limonene per esempio ce ne sono addirittura un migliaio che vengono prodotti dalle piante ed emessi nell'area nell'aria sotto la volta forestale questi composti organici volatili hanno attraverso la dieta se appunto si assunisce attraverso la dieta effetti moltissimi effetti sull'organismo di un topo di un ratto di tipo antibatterico antinfiammatori antinfiammatorio hanno effetti addirittura antidoloritici e analgesici e soprattutto non solo antidepressivi nel senso che topi che ingeriscono queste sostanze nella dieta a concentrazioni riportabili probabilmente all'esposizione umana che pure avviene attraverso l'inalazione hanno comportamenti più di attivazione locomotoria e di esplorazione e se sottoposti a stimoli stressanti tendono ad avere un minore rilascio di ormue dello stress è molto ho voluto qui citare uno studio recente che ha evidenziato che un terpene prodotto dalle conifere proprio il pinene si combina nel cervello di un auditore di laboratorio proprio con lo stesso recettore cerebrale cioè con un meccanismo chiaro e serratura a cui si legano le benzodiazepine i più diffusi farmaci antiridici e regolarizzano anche nell'animale il ritmo sogno quindi questo vedete come è come se il nostro organismo si avesse si fosse preparato nel corso dell'evoluzione a utilizzare delle sostanze rilasciate dagli alberi come degli ansiolitici naturali veniamo agli aspetti di cui vi parlavo prima era questo quello che volevo farvi ascoltare e lo abbiamo sperimentato è quello che la medicina giapponese in primis quello che noi chiamiamo forest batting e che ultimamente forse se ne sente anche più parlare abbiamo fatto anche esperienze io stessa ho partecipato a un momento esperienziale di ricerca in un'oasi WWF gestita da un'equip medica noi siamo stati tutta una giornata in oasi in un percorso natura e ci sono stati rilevati i parametri in fase iniziale a metà percorso e alla fine avremo a breve risultati facendo esperienze di rilassamento nel bosco e in pratica è sempre più chiaro adesso ci sono anche ulteriori studi che i terpeni che sono queste molecole volatili che rilasciano la maggior parte delle piante e che quindi permeano i sentieri dei boschi sono coevolute sono delle molecole aromatiche quelle per intenderci alcune sono quelle che noi estraiamo negli oli essenziali sono queste molecole che sono coevolute con noi e che hanno un posizionamento nelle aree cerebrali che sono strettamente specifici tipo come diceva lei i meccanismi chiave serratura per cui la molecola viene legata nel luogo dove si legano i farmaci antidepressivi quindi la natura è di per sé distensiva ha effetto sul cardiocircolatorio per cui si abbassa istantaneamente la pressione e come contropartita non vengono rilasciati cortisoli che sono gli ormoni dello stress quindi se come capita in Giappone puoi andare dal medico e dire guarda non mi sento bene a scuola mi stanno stressando tantissimo e ti può capitare che la prescrizione sia passeggia un'ora al giorno nel bosco vicino quindi la natura anche terapeutica tra i servizi offerti ok detto ciò e lasciata anche Gemma Calamandrei io ricondividerei la presentazione e un'ultima meraviglia sulle piante ecco in pratica ci ritroviamo nella piattaforma One Planet School dove vi dicevo c'è qualcosa che vi volevo far vedere ditemi se si apre anche a voi questo video ok vedete che sta caricando sta caricando la pagina statica ok allora è sempre la solita cosa condivido la scheda precisa ditemi se lo vedete adesso devi sentire questo i cuscini normali non sono progettati geometricamente saltiamo l'annuncio allora il video è in inglese è intuitivo ma lo interrompo e lo traduco in italiano a proposito della meraviglia delle piante ovviamente gli alberi noi quasi per definizione li individuiamo come esseri solitari ma la terra sotto gli alberi racconta una storia diversa andiamo a vedere ma gli alberi al di sotto del suolo noi sappiamo avere radici paragonabili alla chioma quindi estremamente estese e lì sotto si giocano delle delle storie interessanti storie di accordi storie di solidarietà ma anche storie di guerre tra alberi qual è il meccanismo di comunicazione il meccanismo di comunicazione sono i funghi pensate i funghi sono gli esseri viventi forse più abbondanti come diffusione sul pianeta terra se consideriamo il sopra e il sotto il suolo ovviamente quindi questi fondi creano una una comunione con le radici spesso sono in simbiosi con le radici e svolgono il loro ruolo ovviamente in ogni patto c'è chi dà e c'è chi riceve da un lato e chi dà e chi riceve dall'altro lato quindi le piante che fanno la fotosintesi clorofiliana sono ricche di zuccheri i funghi che non fanno la fotosintesi clorofiliana hanno bisogno degli zuccheri hanno bisogno di glucosio quindi le radici rilasciano ai funghi il glucosio i funghi rilasciano alla pianta oltre ad altri nutrienti anche questi servigi che è quello di creare quello che viene chiamata adesso vedremo World Wide Web questo sistema vedete sembra quasi il nostro web e infatti è il Wood Wide Web attraverso questo sistema gli alberi comunicano tra loro anche a distanze di chilometri e chilometri e fanno cose fantastiche questa è una cosa meravigliosa gli alberi vecchi che sono in prossimità di morte diciamo forniscono attraverso questo sistema parte dei loro nutrienti agli alberi piccoli che hanno intorno dando loro una spinta in più per crescere perché in una foresta molto densa in pratica gli alberi piccoli il momento più delicato è proprio quello mentre raggiungono la luce perché la luce è necessaria per loro ma la coltre al di sopra impredisce questa risalita per cui in questa fase è fondamentale quello che chiamano gli alberi madre che forniscono nutrimento anche gli alberi malati rilasciano nutrienti ai loro vicini sapete forse non lo so in qualche modo ne avete sentito parlare che se c'è un attacco di un insetto gli alberi rilasciano dei mediatori chimici delle molecole di segnalazione anche agli altri alberi come per dire guarda che qua il nemico è comune traiamo forza l'un l'altro per reagire infatti seguire l'andamento di una malattia in una foresta oppure in una piantagione è quello che è successo qualche anno fa vi ricordate alle castagne c'è stato questo insetto che veniva ovviamente la maggior parte delle volte sono insetti alieni che vengono da altre regioni da altri contesti praticamente ha decimato pensate che in un paese che viveva di castagna e montella si è avuta la perdita del 95% della della produzione ovviamente con una grave con un grave problema economico per chi viveva per tutta la filiera della castagna ma con il tempo e il tempo è stato più o meno calcolato in 7-10 anni le piante reagiscono e proprio mentre si crea questa come dire questo esercito solidale che combatte l'insetto attualmente le piante sono in ripresa la produzione anche e quindi significa che il nemico è stato sconfitto dice come internet anche il wood wide web ha il suo dark side il suo lato oscuro e sono alcune orchidee che in maniera parassitica prelevano nutrienti e ne vediamo tante di orchidee pseudo orchidee parassite nei boschi per esempio non lo sapevo che il noce invece diffonde sostanze chimiche tossiche agli alberi che stanno intorno a lui quindi ne induce la malattia la morte per restare da solo per sabotare i rivali ovviamente anche gli scienziati stanno ancora studiando effettivamente in maniera preponderante negli ultimi anni si sta analizzando tutti questi dati relativi a comunicazioni tra gli alberi e soprattutto anche il perché ci sia questa solidarietà tra gli alberi che crea crea una comunità tra gli individui quando sei prossimo in Woodland potresti pensare di pezzi come parte di un superorganismo on the youth feet lo immaginavate questo? è stata investita e abbandonata sulla scala lo sapevate questo? ne avevate sentito parlare? no probabilmente il regista Cameron di Avatar però lo conosceva sì perché effettivamente sì è meraviglioso ok io ritornerei ci siamo stati poco alla alla presentazione per affrontare altre problematiche sì ritorno allo schermo intero perché voglio farvi vedere la presentazione la presentazione ovviamente resterà a voi con tutti i link in maniera tale che vi ricorderete di quanto abbiamo analizzato insieme i servizi ecosistemici ritorniamo al nostro Padlet in effetti alcune cose sono venute fuori altre un po' meno per esempio il cibo sì a proposito di medicine sicuramente sapete che anche l'aspirina banalmente che noi utilizziamo frequentemente deriva da la corteccia del salice e il principio attivo è l'acido acetil salicilico anche dal nome si associa alla pianta qualcuno magari anche lo sa la digitale che è una bellissima pianta estiva di montagna che ha un fiore bello rosso infatti è digitalis purpurea un bel fiore rosso è una pianta estremamente tossica quindi pericolosa ma il principio attivo la digitalina è quella che viene utilizzata per farmaci per il cuore e quindi è semplice ne sono tantissimi la la cosa triste è che sicuramente le foreste sono uno scrigno di tutto questo e quindi di biodiversità più piante ci sono più esseri viventi ci sono più noi abbiamo la possibilità di andare a cercare all'interno e di scoprire cose nuove molecole nuove che possano essere utili farmaci soprattutto e però col fatto che stiamo perdendo biodiversità alla fine succede che stiamo perdendo anche opportunità in pratica ci sono specie che si stanno estinguendo prima ancora che noi le conosciamo le cataloghiamo e le studiamo quindi stiamo perdendo opportunità e vabbè non c'era venuto bene in mente anche che le foreste favoriscono la fertilità del suolo e infatti parleremo a breve dell'importanza del suole mentre invece abbiamo abbondantemente anche grazie all'intervento della dottoressa Calamandrei individuato adesso sappiamo perché ci sentiamo bene nelle foreste dal corso docenti corso foreste di WWF dalla piattaforma One Planet School ho estrapolato il video che abbiamo visto appena insieme sulle radici e il World Wide Web e andiamo a fare delle considerazioni adesso su questi ecosistemi che finché sono in equilibrio sono una miniera d'oro ma che hanno anche una loro resilienza e capacità estreme capacità di recupero ma che sono sottoposti quotidianamente a delle insidie il cambiamento climatico è una grave insidia per un fattore di rischio rilevante lo stiamo toccando con mano sia per quanto riguarda la salute umana gli esseri viventi tutti perché come abbiamo imparato dalla lezione degli AIDA all'inizio ogni cosa è connessa a ogni cosa non è che la foresta pluviale mi è lontana ma chi se ne frega io qui ho quella temperata ma mi curo solo la temperata e no perché le mitigazioni climatiche a livello globale sono proprio gestite dai flussi di umidità della foresta pluviale quindi è come dire che un battito d'ali da un lato della terra genera un uragano dall'altro lato e di questo non solo dobbiamo noi educatori averne consapevolezza ma far sì che si apra la mente dei nostri studenti che loro abbiano una visione a 360 gradi che siano in grade di cogliere le cause e di associarle agli effetti e di anche pensare a soluzioni quindi da un lato all'altro del mondo quindi come ci dicevamo lo squilibrio degli ecosistemi può favorire la diffusione di patogeni lo abbiamo visto siamo reduci da una pandemia che può essere più o meno intuitivamente ma anche praticamente e scientificamente associata ad azioni indotte dall'uomo quindi in sintesi andare a contrastare il cambiamento climatico come la perdita di equilibrio degli ecosistemi quindi la conservazione degli ecosistemi significa trovare delle soluzioni e noi dobbiamo trovare quelle soluzioni le cosiddette natural based solution che sono quelle che portano al benessere delle comunità perché devono prevenire non solo future pandemie e tornando non è che vi voglio sottoporre a un supplizio quello di tornare un po' indietro in questi anni che abbiamo appena vissuto forse li vogliamo cancellare ma ci siamo ritrovati tre coronavirus in meno di vent'anni e sono un forte campanello d'allarme legato ai cambiamenti dell'ecosistema questo lo diceva Ilaria Capua che è diventata una famosissima virologa io ieri rileggendo un po' e mettendo a posto un po' la presentazione pensavo tra me e me e al mio alla mia esperienza in pratica io in circa 30 anni di insegnamento non ho mai preso l'influenza o meglio dovendo contare l'ho presa due volte una volta circa 20 anni fa e una volta circa 10 anni fa eppure sappiamo bene che le nostre classi tra dicembre e febbraio sono focolai di influenze varie e un alternarsi di malati sani chi torna chi va eppure io non l'avevo mai presa così come non ho preso nessuna malattia esantematica mi vantavo di un sistema immunitario pressoché da leone ebbene in questi ultimi tre anni ho preso per ben tre volte di seguito il covid l'ultimo lo sto vivendo ho appena sono appena in remissione quindi è un qualcosa che veramente sta cambiando e che dobbiamo averne consapevolezza e soprattutto conservare la memoria nelle nostre azioni quotidiane vediamo invece l'umanità sta scontando gli effetti negativi dell'eccessiva pressione esercitata sull'ambiente la diffusione dei virus potrebbe infatti essere considerata come una risposta della natura all'invasività dell'uomo e questo lo diceva Inger Andersen direttrice esecutiva del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente come ritorna ancora siamo tutti interconnessi se l'ambiente viene stravolto i virus presenti in quell'ambiente vengono a contatto con ospiti nuovi i danni a un ecosistema possono avere conseguenze patologiche sugli esseri umani quelli che l'hanno generato quindi questo effetto boomerang ce lo sottolinea ancora una volta se fosse necessario ancora Ilaria Capola una virologa quindi tutelare ne deriva che tutelare la salute umana è possibile conservando la biodiversità e suona ancora come un presagio realizzato la frase di David Quamen che risale ormai a più di dieci anni fa undici anni fa laddove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie e per noi è veramente un macigno che ci cade in testa questa frase insomma quindi ne deriva che le foreste potrebbero essere lette al nostro antivirus e in questa grafica del WWF molto esplicita vediamo quali sono le la foresta una foresta integra come ecosistema chiuso cioè all'interno della foresta i virus ci sono ci sono sempre stati con ospiti che sono individuati come ospiti serbatoio tra cui il famosissimo ormai piristrello per cui finché i virus sono ospitati e sono conservati e la vedo un po' come la stessa storia della CO2 finché è conservato depositata all'interno dei materiali degli alberi tutto vantaggio ma quando noi bruciamo gli alberi viene fuori tutta quella CO2 che ha effetti sull'atmosfera così come quando per un motivo o per un altro e poi andremo a vedere perché si degrada una foresta ci sono tanti modi per degradare una foresta spesso si costruiscono strade per collegare miniere ai centri e quindi si crea quell'interruzione si dà disturbo agli animali e si entra in contatto si entra all'interno di quello che era un circuito chiuso generando spillover generando contaminazioni e quindi salti di specie quindi vista dall'alto suona un po' così la fermentazione delle foreste anche piantare monoculture tra interrompendo il flusso e l'ampiezza delle foreste si creano gli stessi effetti e conosciamo bene quello che è stato quelli che sono stati gli effetti del bashmirt mangiare la carne di animali selvatici e in particolare i propri pipistrelli che è una cosa abominivole e il traffico di questi animali selvatici che è un traffico che è ai primi posti nell'economia mondiale quindi significa che è ben consolidato e che si farà una fatica a immaginare uno degli animali più braccato che rischia fortemente l'estinzione è proprio il pangolino eccolo mi volevo ci sono queste due immagini che ho inserito sembra un po' sparate nella presentazione perché a proposito di squilibri volevo mostrarvene alcuni della nostra civiltà occidentale pensate che e stiamo parlando di biomasse quando parliamo di uccelli al mondo il 70% sono polli e volatili stiamo parlando per lo più di polli e tacchini da allevamento quindi con tutta la filiera dell'allevamento che sappiamo essere estremamente inquinante il 30% solo sono rimasti gli uccelli selvatici che sono a loro volta preda di cacciagione umana ancora più trovo grave la situazione dei mammiferi perché gli animali selvatici e quindi c'è un rinoceronte ma a questi associamo elefanti tigri pipistrelli eccetera sono rimasti il 4% della biomassa globale e noi esseri umani questi 7 miliardi di esseri viventi definiti specie homo sapiens sapiens siamo il 36% e il 36% gestisce un 60% di animali di allevamento per lo più sono mucche sono bovini ma anche ovini caprini e suini quindi pensate questa biomassa il 60% della biomassa globale con tutta la filiera dell'allevamento quanto può generare inquinamento emissioni di CO2 sostanze tossiche e perdita di suolo per nutrire quegli animali che poi ci nutriranno quindi in queste immagini ci dovrebbe essere anche una riflessione per la nostra dieta ritornando invece al discorso delle epidemie vabbè le abbiamo un po' viste passare e anche veramente prima sempre molto da lontano le abbiamo viste passare e fino a che non è quella che è in corso diciamo con la quale stiamo a fatica convivendo che è quella appunto del covid ma ne abbiamo viste passare tante e guardate da un po' dalle immagini sono sempre gli animali selvatici il serbatoio che in qualche modo viene ad essere alterato rispetto all'ecosistema che è contenitivo quindi parliamo della suina del 2009 anche l'influenza stagionale pensate un miliardo di infetti e tantissimi morti potrete poi andare a vedere i dettagli numerici e anche dove si sono sviluppate la SARS che ci aveva spaventato tantissimo nel 2002 che era partita dalla Cina e le altre sparse in giro per il mondo anche con i costi che in termini di vita umane e in termini economici sappiamo bene perché l'abbiamo vissuta perché storia attuale ed è storia che ci appartiene quello che riguarda le perdite in termini umani economici dell'ultima per quanto riguarda la deforestazione di cui parlavamo qui sono sintetizzate in questa grafica magari vi tornerà utile per lavorarci quali sono le principali cause e lo stiamo vivendo anche lo viviamo ormai ogni estate quella dei grandi incendi sono è un serpente che si morde la coda aumentano i cambiamenti climatici la siccità diventa stagionale diventa fortissima gli inneschi sono rapidissimi e si ha un'emissione notevole di CO2 nell'atmosfera aumentano i cambiamenti climatici e si instaura un meccanismo a catena e un po' la grande diciamo la più grande motivazione è quella del sistema del cibo soprattutto legato abbiamo visto la deforestazione in Sud America è legata soprattutto a gesti di illegalità diffusa vengono bruciate foreste perché di lì a poco con aziende illegali si andranno a impiantare delle farma per allevare bovini poi vedremo nei dettagli anche le attività estrattive le miniere ovviamente laddove si immagina che ci sia la possibilità di estrarre e si scoprono miniere in un battibaleno si costruiscono strade si sradica si deforesta per creare connessioni e quant'altro ma soprattutto e lo abbiamo visto perché ci sono interessi politici e perché si dà uno scarso valore ancora oggi al capitale naturale alle foreste cioè ed è una contraddizione che dovrà essere quantificata e valorizzata perché se alle foreste io associo tutti quei servizi che abbiamo visto prima dal benessere al cibo all'acqua alla mitigazione e quant'altro sicuramente io dovrò dare un valore altissimo alle foreste non quanto sicuramente viene indicato adesso e quindi quando parliamo di deforestazione stiamo parlando anche di perdita di suolo gravissima perdita di suolo e per questo volevo un attimo interrompo la condivisione perché volevo rendervi partecipi e farvi vedere un video che è molto interessante e che può essere anche materiale spendibile una grafica gradevole racconta in maniera esaustiva cosa che cos'è il suolo parliamo di suolo infatti si chiama ci siete siete stanche procedo si si ok e ditemi se sentite lo trascuriamo si si sente si sentite veniamo sopra calpestandolo ogni giorno ma ne abbiamo bisogno come l'aria che respiriamo è giunto il momento di parlare del suolo e sicuramente è giunto il momento di proteggere il suolo Non può esserci vita senza di esso, il suolo ci nutre e noi ne siamo responsabili Il suolo si forma dalle rocce che vengono lentamente alterate dall'azione del sole, del vento e della pioggia Con l'aiuto degli animali e delle piante È così che 10 centimetri di suolo fertile si formano in 2000 lunghi anni Solo 10 centimetri in due millenni Il suolo che noi distruggiamo in pochi anni è perso per sempre Le foreste e le piante lo proteggono Ma ogni anno 13 milioni di ettari di foreste vengono abbattute I campi agricoli sono coltivati in maniera inadeguata A ciò si aggiungono le monoculture e le coltivazioni lungo i versanti molto pendenti Dopo il raccolto i campi vengono lasciati nudi e senza protezione Tutto questo accelera l'erosione del suolo E così il suolo è portato via dal vento, dilavato dalle acque Nel solo 2011, 24 miliardi di tonnellate di suolo fertile sono andate perse Una perdita di 3,4 tonnellate per ogni persona in tutto il mondo, indipendentemente dall'età L'erosione del suolo costa 70 dollari all'anno per persona Un costo globale di circa 490 miliardi di dollari Una cifra astronomica Anche le nostre città crescono rapidamente Ogni anno in Europa un'area vasta come Berlino viene trasformata in area urbana La metà di questi suoli viene sigillata Sono suoli sui quali nulla può più crescere Ma il suolo è una risorsa finita e quindi il suo valore è inestimabile Gli investitori e i politici lo hanno capito Nel mondo è già iniziata la corsa a comprare i suoli L'accaparramento dei terreni con mezzi e con scopi discutibili Milioni di ettari di terreni cambiano proprietario ogni anno Il prezzo, vite rovinate, famiglie sradicate dalla loro terra Il più delle volte si tratta dei più poveri tra i poveri Spesso non hanno scelta Distruggono la foresta perché hanno bisogno di terra per sopravvivere Abbiamo bisogno di suoli sani e fertili, ora più che mai Le stime dicono che nel mondo la disponibilità di terreni lavorabili si dimezzerà entro il 2050 Ma già oggi, ogni sera, un miliardo di persone vanno a letto affamati Un miliardo di persone sono troppe E questo numero è destinato a crescere ogni giorno se non distribuiremo il suolo in maniera più equa Se non incrementeremo drasticamente il raccolto su ogni piccolo pezzo di terra O se semplicemente non scopriremo una seconda terra Ma questa non è un'opzione Argomenti come suolo e territorio raramente attirano la nostra attenzione o quella dei nostri politici Vediamo gli scaffali dei supermercati pieni e pensiamo che le cose rimarranno così per sempre Viviamo in credito a spese dei suoli Ma loro non sono inesauribili Preleviamo moneta da un conto in banca nel quale non depositiamo mai niente Un giorno quel conto si esaurirà e il nostro credito sarà scoperto E i nostri suoli saranno andati via per sempre Ma ci sono anche buone notizie Sappiamo da tempo cosa fare per proteggere i suoli e consegnarli ai nostri figli Ricordiamo Il suolo è una risorsa vivente e fragile di cui aver cura Non è un'industria Ogni individuo ha diritto al suolo E tale diritto deve essere salvaguardato dalla legge Non possiamo permetterci di seppellire sotto uno strato di asfalto il nostro mezzo di sostentamento Ora tocca a noi Dobbiamo aprire gli occhi e trovare i modi per applicare al meglio le nostre conoscenze Solo così non perderemo il suolo Da cui dipendono la nostra stessa esistenza E quella delle generazioni future Più o meno abilente Cosa ne pensate? Sì Diciamo che Bello Bello Anche la grafica molto efficace Pensavo anche di magari Lanciando il video Di chiedere ai ragazzi Di segnare sul quaderno Qualche frase che li ha particolarmente colpiti E poi lavorarci su Perché i concetti sono espressi e portati avanti Sono talmente tanti Sicuramente interconnessi ovviamente Che però Va la pena Analizzare con loro In un secondo momento Dopo la visione del Del cartone Del video Molto bello E Ritornando a Alla presentazione Che però non vi farò vedere Perché vi voglio far vedere il prossimo video Tanto la presentazione rimarrà a voi come percorso Perché è un po' farraginoso Anche per non tediarvi Interrompere la condivisione Riprendere la presentazione Passare qualche slide Interrompere la condivisione E riprenderla per il video Quindi a voi resta il percorso Spero anche i ragionamenti che stiamo facendo in sequenza E Quali possono essere le possibilità Quelle Perlomeno noi vediamo E dietro il WWF c'è una comunità scientifica Che Che ci aggiorna continuamente Noi vediamo nelle Natural Based Solutions Le possibilità di riscatto Cioè Ce l'ha insegnato la natura No? Sono 4 miliardi e passa di anni Che Continuamente Si rigenera Mostra resilienza Recupera Riutilizza Inventa nuove formule Quindi Sicuramente Anche un ambiente degradato Lasciato alla natura Avrà Una rinascita Lo abbiamo visto anche durante il Covid Gli animali riappropriarsi di spazi Anche durante l'abbandono Per esempio È molto frequente E io ce l'ho adesso proprio di fronte Che campagne abbandonate Perché magari gli eredi non vogliono più coltivare Eccetera Che erano prima delle campagne Adesso pian piano La natura se ne riprende possesso E diventano dei piccoli boschetti Boschetti dove la biodiversità Pian piano Io ce l'ho di fronte Nel giro di pochi anni Ho incominciato a vedere le ghiandaie Durante la pandemia Che osservavamo più di più il cielo I gruccioni passare in migrazione E da qualche tempo anche il picchio Perché significa che il boschetto Inizia a diventare vecchio E il picchio verde Che è quello che fa quel verso un po' Che sembra un po' chiacchiericcio Che sento e vedo nelle mie passeggiate col cane Quindi la natura sa fare Semplicemente aiutiamola a farla E se un po' la storia di quanto solo stiamo perdendo Ci dà un po' di botta al cuore Invece questa storia che adesso vi racconto È una storia di lupi Che è successa per davvero Ed è documentata Vi piacerà sicuramente Ed è una storia Che ci racconta come è possibile Ripristinare con metodi naturali Ricondivido Si chiama Come i lupi cambiano i fiumi Vedete? Sì Stiamo vedendo Questo dispositivo salvavita impedisce a una persona di soffocare in pochi secondi Ecco un momento spaventoso E' una delle più eccitanti scoperte scientifiche E' una delle più eccitanti scoperte scientifiche Dell'ultimo mezzo secolo E' stata la scoperta di diffuse cascate trofiche Una cascata trofica è un processo ecologico Che parte dalla cima della catena alimentare E scende giù per tutta la catena fino al fondo E il classico esempio è quello che è successo al parco di Yellowstone negli USA Quando i lupi sono stati reintrodotti nel 1995 Ora noi tutti sappiamo che i lupi uccidono svariate specie di animali Ma forse siamo meno coscienti del fatto che danno vita a molti altri Prima che i lupi arrivassero erano stati assenti per 70 anni Il numero di cervi per la mancanza di predatori era cresciuto e cresciuto E malgrado gli sforzi degli umani per controllarli Erano riusciti a ridurre molta della vegetazione quasi a nulla pascolando Ma appena i lupi arrivarono, seppure in pochi Cominciarono ad avere gli effetti più notevoli Per prima cosa uccisero alcuni cervi Questo cambiò radicalmente il comportamento dei cervi I cervi cominciarono ad evitare certe parti del parco I posti dove potevano essere intrappolati più facilmente In particolare le valli e le gole E immediatamente questi posti cominciarono a rigenerarsi In alcune aree l'altezza degli alberi quintuplicò in appena sei anni I versanti spogli delle valli velocemente diventarono foreste di pioppi E salici e appena ciò accadde Gli uccelli cominciarono a stabilirsi in queste aree Il numero di piccoli passeriformi e migratori cominciò ad aumentare grandemente Il numero di castori cominciò ad aumentare perché i castori amano mangiare gli alberi E i castori come i lupi sono ingegneri degli ecosistemi e creano nicchie per altre specie E le dighe che costruirono nei fiumi procurarono habitat per l'ontre E topi muschiati e anatre e pesci e rettili e anfibi I lupi uccidevano i coyote e come risultato il numero di lepri e topi cominciò a salire Il che significò più falchi, più donnole, più volpi, più tassi Corvi e aquile calve scesero a nutrirsi delle carogne lasciate dai lupi Anche gli orsi se ne nutrivano e anche la loro popolazione cominciò ad aumentare In parte anche perché sugli arbusti rigenerati crescevano più bacche E gli orsi aumentarono l'impatto dei lupi uccidendo alcuni giovani di cervo La cosa che diventa realmente interessante è che i lupi cambiarono il comportamento dei fiumi I fiumi cominciarono a formare meno meandri, c'era meno erosione I loro canali si strinsero, si formarono più bacini, più zone con fondo basso Ognuna delle quali era ottima come habitat per gli animali selvatici I fiumi cambiarono in risposta all'azione dei lupi E la ragione di ciò era che la foresta che si rigenerava stabilizzava le rive E queste franavano meno spesso e i fiumi divennero più stabili nel loro corso Similmente, per l'allontanamento dei cervi da alcune aree E la ripresa della vegetazione sui versanti delle valli Ci fu meno erosione del suolo perché la vegetazione stabilizzò anche quello Quindi i lupi, in piccolo numero, trasformarono non solo l'ecosistema del Parco Nazionale di Yellowstone Un territorio di area enorme Ma anche la sua geografia fisica Cosa ne pensate? In una parola, cosa ne pensate? Siete senza parole È incredibile Sì, anch'io direi incredibile perché uno pensa ai lupi, no? Come qualcosa di nefasto Invece gli effetti sono del tutto contrari Come? Io lo trovo meraviglioso Assolutamente meraviglioso Bene Ritornando un po' alla presentazione Dunque, abbiamo analizzato un po' L'influenza del suolo L'importanza del suolo Forse proprio perché lo cappessiamo Non gli diamo tanta importanza E soprattutto le connessioni con quello che facciamo noi Anche occidentali Con quelle che sono le ricadute In termini di perdita di suolo e di foresta Che cos'è? E quindi qua adesso sono bastonate per noi occidentali Che cos'è che sta guidando la deforestazione? E qual è la nostra responsabilità nei confronti della deforestazione dall'altra parte del mondo? Quindi le nostre azioni sono il battito d'ali E il bruciare la foresta è l'effetto di quello che noi stiamo facendo Pensate che appena pochi elementi Parliamo di cibo soprattutto Bovini, soia, il legno dei nostri mobili, del nostro parquet E l'olio di palma Sono i principali oggetti di attenzione Per capire un attimo le dinamiche Un terzo dei prodotti agricoli Provenienti dalla deforestazione illegale Di quel Sud America che abbiamo analizzato all'inizio Sono destinati purtroppo al nostro mercato E il 50% di questi proviene dal Brasile Più o meno penso che sia anche cronaca quotidiana O per un quarto invece dall'Indonesia Questi prodotti abbiamo visto che sono principalmente quelli che vi ho detto Ma in più si aggiunge il cacao Si aggiunge il caociu Anche il caffè c'è Frutti esotici come l'ananas Avogado e quant'altro Ma in primis Ho selezionato alcuni di questi prodotti Perché sono nel nostro quotidiano E perché sono importanti per qualche motivo In primis dicevo la soia Pensate che dai semi di soia L'80% viene ricavato come cibo Il 20% è l'olio di soia che noi usiamo E che viene usato prevalentemente per uso alimentare Pochissimo il 7% per l'uso industriale Dell'80% Quindi la stragrande maggioranza Va all'allevamento degli animali Come cibo Solo il 3% nei prodotti C'è qualcuno che dice Accusando i vegetariani, i vegani Anche voi distruggete la foresta La foresta fluviale Beh, non è proprio così Perché per quel 3% Non sono certo i vegetariani Che distruggono la foresta Ma siamo sempre Sull'uso di animali di allevamento In particolare i bovini Pensate che Purtroppo Della soia che noi utilizziamo in Europa Il 95% è importata E in particolare Qui le percentuali Il 42% dal Brasile Il 40% dall'Argentina Solo il 7% dall'Usa e dal Paraguay E solo il 5% di soia Che noi utilizziamo Viene prodotta in Europa Il che significa che effettivamente E non solo Di quella proveniente dal Brasile Alle maggiori coltivazioni sicuramente Ma anche quelle che sono quasi completamente Geneticamente modificate Quindi occhio anche alle etichette Ai prodotti con semi italiani Possibilmente biologici Questo è estremamente importante Per la nostra salute L'olio di palma L'ho inserito perché L'olio di palma C'ha una storia Vi ricordate Qualche dieci anni fa È nata la questione Dell'olio di palma Nelle merendine E è stata una battaglia Vinta dai consumatori I consumatori sono una grande forza Perché siamo miliardi E se decidiamo Di comune accordo Di eliminare un alimento Perché non va bene E lo boigottiamo Il mercato necessariamente Dovrà darci ascolto Quindi un consumatore consapevole Che fa le sue scelte al supermercato Fa anche la differenza Vi ricordate nel video che abbiamo visto Del suolo Per me è sconcertante Quell'immagine Che fa vedere I banchi del supermercato Sempre pieni E noi un po' È vero Cioè noi andando al supermercato Troviamo sempre tutta quella varietà Soprattutto in quei grandi supermercati Che E immagino Noi Ma anche i bambini Soprattutto Ci convinciamo Che tutto questo Ma è lontano da noi Perché tanto al supermercato Io trovo sempre tutto Ma non è precisamente così Non è precisamente così Perché sappiamo bene Che ogni anno L'overshoot day Il giorno in cui abbiamo Utilizzato tutte quelle risorse Degli ecosistemi Si anticipa anche Di un mese Siamo arrivati a maggio Giugno Luglio Significa che a metà anno Noi abbiamo consumato Tutte le risorse Di un anno Anche bevendo il caffè Mi riferisco soprattutto Agli sprechi Perché Essere un attento consumatore Non significa Ok Non mangio Perché ormai Il mondo sta per finire E io contribuo Comunque vada Contribuisco negativamente No Stiamo parlando di quello Che ogni consumatore Può fare E quindi Con un occhio particolare Allo spreco alimentare Perché se c'è un miliardo Di affamati al mondo C'è anche un miliardo Di obesi Al mondo E ancora I tre quarti Di quello che compriamo Passa dal frigorifero Alla pattumiera Quindi Occhio Essere consumatore Attento Significa Comprare Alimenti Correttamente Biologici Che siano Che siamo Noi Nella scelta Attenti alla filiera Ma soprattutto Nelle quantità Giuste Che possiamo Utilizzare Per evitare Ogni spreco È uno spreco Non solo Di quel cibo Ma di tutta La filiera Che ci sta alle spalle Quindi Anche per quanto Riguarda il caffè Il Brasile Con la qualità Arabica Quella più scelta Diciamo Quella che ha Particolari proprietà Viene dal Brasile Mentre Dal Vietnam Dall'India Eccetera Dall'Indonesia La robusta Che è quella Che serve A dare corpo Al caffè Mentre invece Per il cacao Anche per il cacao Si parla C'è la problematica Le problematiche Nascono dal fatto Che In questi paesi Che sono Per lo più Poveri Paesi del terzo mondo Si deforesta Per fare spazio Alle monoculture Dal punto di vista Proprio Delle coltivazioni Le monoculture Sono dei deserti Di biodiversità Quindi Anche molto Soggetti All'attacco Di parassiti Perché Si arriva Un insetto Che gli piace La pianta Del caffè Ne trova Miliardi Si fa Problemi sostanziali E poi Ovviamente Anche per quanto Riguarda i pesci In particolare I prostacei Come i gamberi La maggior parte Di quelli che compriamo Sono gamberi tropicali Ma il 55% Viene Da acquacoltura Che vengono Create Distruggendo Le mangrovie Le mangrovie Sono un ecosistema Importantissimo Per le coste Soprattutto Asiatiche Perché Mantengono Il La La violenza Del mare Nel caso Di Tornado Di Maremoto Perché Sono un ecosistema Che protegge Specie Specifiche E soprattutto Specie A rischio Di estinzione Quindi Comunque Ci muoviamo Facciamo danni E Il caso Più Eclatante Di Distruzione È quello Legato Alla carne bovina Pensate Il 60% Della perdita Di foreste Che avviene Prioritariamente In Brassile Dove L'illegalità E La quotidianità Si ha La perdita Dovuta Alla Alla Sostituzione Della foresta Con il pascolo Ovviamente La foresta È un sistema In equilibrio Con le piogge Con il Rinnovare Dei fertilizzanti In maniera Naturale Ma se Io sostituisco Con Il prato Praticamente Si depauvererà Nel giro Di pochissimi anni E quindi Ci sarà bisogno Di altro suolo E quindi Ci sarà bisogno Di altra foresta Da tagliare Ed è quello Che sta succedendo In una maniera Spaventosa In Brasile E un terzo E un terzo Delle carni Che noi Utilizziamo Vengono Dal Brasile Con Sistemi Di allevamento Intensivo Dove L'animale È costretto A pochi Forse a Un metro Quadro O pochi Metri Quadri Di spazio Con Notevole Stress Altro che Relax Se è endorfine Questi animali Sono pieni di cortisolo Quindi stressati Per cui si ammalano Facilmente E per cui Hanno bisogno Continuo Di antibiotici Pensate Che Ovviamente Mangiamo Molta più carne Di quante Effettivamente Ne abbiamo bisogno Ce lo ricordano Continuamente Nutrizionisti Ed oncologi Che non è necessario Anzi Insieme alle carni Noi Introduciamo Tantissime Tossine Quindi Ridurre Cosa posso fare io? Ridurre il consumo Di carne Settimanale Che utilizziamo E sostituirlo Con prodotti Vegetali Abbiamo già parlato Di Soluzioni Della scuola Di soluzioni Natural Based E in tutto Questo Marasma Come si orienta La scuola? Beh La scuola Secondo me Ha un ruolo Importantissimo Oserei dire Fondamentali Questo è il motivo Per cui Pare che L'imperatore In Giappone Si inchina Solo Davanti Agli insegnanti Perché Perché Ne valorizza La funzione Sociale Perché Gli insegnanti Sono quelli Che stanno a formare Il futuro I cittadini Quelli Che gestiranno Il mondo Del domani E quindi È un ruolo Estremamente delicato Le nostre scelte Sono le scelte Del futuro Quindi Cosa può fare La scuola Sicuramente La scuola Dovrà Creare Un ambiente Accogliente Per gli alunni Anche Scelte didattiche Come queste Sono importanti Per la missione Io trovo Che quella Degli insegnanti Sia una missione Quello di creare Comunità Tra la scuola Chi vive Vicino La scuola E soprattutto Il coinvolgimento Delle famiglie Sappiamo bene Che spesso Ci ritroviamo A educare Anche le famiglie Insieme Ai figli E soprattutto La scuola Deve essere Un fulcro Di Comunicazione Con le istituzioni Una cosa Che vedo Che forse Sta cambiando E che trovo Estremamente Positiva E i consorsi Di scuole Le reti Di scuole Essere in rete Con la scuola E con associazione Vedi Il WWF Associazioni Locali Associazioni Del territorio Fa la differenza Che Il singolo Insegnante Della singola Scuola Che diventa Una noce Nel sacco Che non fa rumore E quindi Le scelte etiche Didattiche E metodologiche Che una scuola Può fare Sono importantissime Allora Io vi Vi faccio vedere Quest'ultimo video Però Però Ho l'impressione Che per tutti Le motivazioni Che abbiamo Sperimentato Oggi Lo vedrete Senza musica Non è propriamente La stessa cosa Però Dai Ve lo Mando Lo stesso E Quar politically Grazie a tutti. Però potrete sentirla, vi mando il link. Dottoressa Morzillo, visto che ha fatto questo riferimento, per quanto riguarda le slide di presentazione di questo percorso formativo, se le può inviare o a Claudio Monaci oppure a Laura Bandinelli di modo che le possano mettere disponibili nell'area docenti? Sì, certo. Grazie mille. Vedo molto velocemente una delle attività che farebbero i ragazzi, la facciamo noi. E chiuderei con un video che ho selezionato per voi di Telmo Pievani. E ci salutiamo. Ok, quindi il nostro strand ambiente in salute è benessere. Ritroverete all'inizio di ogni modulo il titolo e la scheda didattica, con praticamente viagevola il lavoro, con tutto lo schema che riguarda le competenze del caso e gli obiettivi di apprendimento, distinti in conoscenze che vogliamo attivare e in abilità che vogliamo attivare. Anche quanto tempo e i prerequisiti, come si chiama l'attività e i raccordi interdisciplinari. Ho scelto questa attività che è legata al primo modulo, molto bella. Avete visto l'ultimo video, quello di adesso che avete visto? Il filo conduttore, lo spago che lega tutti gli esseri viventi. Ebbene, l'attività proposta in questo modulo, che viene poi destritta fase per fase, quindi veramente l'insegnante viene guidato per mano, è un'attività molto utile da fare con i ragazzi. Io suggerisco, noi l'abbiamo fatta tantissime volte, sentitevi liberi, perché noi insegnanti siamo degli esperti di metodologia. È vero che la fondazione dà del materiale che in qualche modo, consentitemi il predigerito, cioè è del materiale già strutturato, sperimentato, ma è nella libertà di ogni insegnante, nella creatività, di modulare i tempi. Se si scopre che è un'attività, si sta prendendo molto i ragazzi, ma io non la limito a un'ora, magari la prolungo nel tempo. Oppure un'attività come questa, il gioco del gomitolo. Se ho la classe pronta, magari non gli dico io chi sarà, ma faccio che lo dicano loro chi sarà. E questo per qualsiasi cosa. Abbiamo cercato di darvi una mano anche per quanto riguarda la valutazione, momento per momento, per cui ci sono degli indicatori e anche il livello di competenza che potrete utilizzare alunno per alunno. Nello specifico, ritornando a questo gioco della rete, del gomitolo, funziona in questo modo. Portiamo i ragazzi all'aperto e sarà molto meglio. Se vogliamo predisporre, perché magari pensiamo che la classe non sia troppo pronta a inventare, o perché magari ha degli elementi di disturbo che voglio tenere più sotto controllo, posso utilizzare le schede, individuo un elemento di un ecosistema che sia biotico o abiotico e attribuisco ogni foglio a un alunno o a una coppia di alunni, nelle eventualità che la classe sia numerosa. Per cui ognuno rappresenterà in una sorta di cerchio, ognuno rappresenterà un elemento dell'ecosistema. Dopodiché si parte da una persona che può essere un alunno sveglio, oppure l'insegnante, perché l'insegnante, per quanto sia moderatore e animatore del gioco, sempre e di tutte le attività, può entrarci dentro e quindi essere parte dell'ecosistema. Per cui lancia il gomitolo e lo passa a quell'elemento che ha delle connessioni con lui. Quindi, che ne so, se l'insegnante è un elemento molto ambito, tipo l'acqua, e lo passa all'alunno che è il seme, spiegherà che l'acqua è importante per il seme, perché senza acqua il seme non germina. Il seme lo lancerà all'albero, perché l'albero nasce dal seme, e tutte le connessioni giù di lì. Dopodiché, attenzione, perché alcune volte laddove ci sono più connessioni, per esempio l'acqua è importante non solo per il seme, l'acqua è importante per l'albero, l'acqua è importante per il suolo, e quindi avrà più connessioni, e quindi la rete si farà più fitta vicino all'acqua. E così si creerà alla fine una rete fittissima tra i vari componenti della classe. Dopodiché si dirà un elemento che viene meno, perché è successo qualcosa, tipo cambiamenti climatici. In questo ecosistema si riduce drasticamente la quantità di acqua, quindi l'alunno che rappresenta l'acqua lascia cadere la sua cordicella, il suo tenere la corda, e dietro di lui di seguito le connessioni. Il seme lascia cadere, perché ci saranno meno semi che si svilupperanno, perché manca l'acqua, cadrà anche l'albero, perché ci saranno meno alberi, perché cade l'acqua, e quindi ci saranno meno abitanti, quindi immagino che ci siano uccelli e quant'altro, e quindi si vedrà alla fine prollare l'ecosistema. Quindi in qualche modo è una simulazione di una situazione, ed è molto efficace. E poi come queste ci saranno anche altre attività, interessanti anche per quanto riguarda la multidisciplinarità. Per esempio in qualche modulo viene chiesto qualche esperimento, tipo nel modulo 22, dove protagonista è il suolo, viene fatto un esperimento proprio in classe sul suolo, per dimostrare la permeabilità del suolo, e anche la capacità filtrante dell'acqua del suolo. Invece nel modulo 23, a proposito di perdita di biodiversità, sempre con lo stesso schema, quindi con la scheda che accompagna l'attività, si suggerisce di mettere in campo un telegiornale, quindi gli alunni che si attivano per raccogliere le informazioni, eccetera, su un tema legato alla perdita di biodiversità. Nella dimenticavo che tra questa prima scheda che vedete, che io vi ho rappresentato, ci sono le notizie per l'insegnante, sono degli approfondimenti, delle conoscenze più o meno approfondite, che non è detto che l'insegnante abbia, ma che può attingere da questi spunti. Un altro gioco nel modulo 24 è legato alle carte. Vengono date delle carte sia rosse, sia verdi, che blu e servono proprio, vi ricordate quando all'inizio ho detto è importante che noi attiviamo le menti dei nostri ragazzi, che li educhiamo all'apertura, alla lettura della complessità. leggere la complessità è la cosa più difficile. Loro si trovano in un piattume in cui prevale l'informazione passata su internet, non sanno discernere tra quella giusta, quella sbagliata, quali sono le fonti, e quali sono le cose, in che modo sono connesse una parte o l'altra del mondo, che c'entra se mangio la carne con i brasiliani e con la politica brasiliana e con quant'altro. Quindi anche giochi di ruolo come questi, giochi di causa-effetto come questi, possono essere importanti. Allora, io anziché andare a dirvi tutti gli altri che poi alla fine c'è anche un'indagine statistica finale su cosa puoi fare tu. Da estendere a tutta la scuola, ne verrà fuori un'audita scuola che potete presentare in plenaria a tutti. Poi l'intervista a un carabiniere forestale, per esempio, dove vi suggeriamo di chiedere all'unità dei carabinieri forestali che si interessano degli animali selvatici, il cui numero è disponibile per ogni regione, sono anche disponibili a venire a scuola. Quindi organizzare un'intervista a un carabiniere forestale per sapere il bracconaggio nella vostra regione, se ci sono traffici illeciti legati alla fauna selvatica e quali sono i maggiori reati, eccetera. E poi il 25 è un laboratorio sui microrganismi, avete una presentazione a disposizione. Io adesso, pochi minuti, se volete, ditemelo se volete, vi farei fare questo delle carte, dove c'è la carta rossa, che sono le azioni, le carte verde, le conseguenze sugli ecosistemi, le carte blu, i rischi per l'uomo. Vi chiederei a ognuna di voi di scegliere una carta rossa, di dirlo ad alta voce e di associarla ad una verde e ad una blu. Che ne dite? Bene! Ok, io non vi vedo in questo momento, quindi ditemi il nome, ditemi la carta che scegliete. Io sono Alessandra, ah, uso massiccio di plastica. Ok. Iselin, combustione di fonti fossili. Ok. Allora, sì, Barbara, invece, espansione incontrollata di aree urbane. Irene, taglio di preste. Ok, vi ricordate la vostra, magari segnatevela su un foglietto. Vabbè, potrò anche tornare indietro. Associate la vostra carta a una conseguenza di questo sugli ecosistemi. Io, inquinamento da microplastiche. Eh, sicuramente. Io, distruzione di aree naturali. Sì. Inquinamento delle falde. Sì. Cambiamenti climatici. Eh, quelli ci stanno sempre. E quali rischi scaturiscono per l'uomo da queste combinazioni. Pericolo di inondazioni. Sì. Sì. Anche se tu, no? Sì, questo è anche tu. Io direi, sono Alessandra, eh, rischi di avvelenamenti, ma anche, sarebbe anche impatto sul benessere. Mi interrompo un attimo. Sì. Dovrei assentarmi io, quindi. I saluti finali e ringraziamenti ve li farà Claudio. Io, nel frattempo, saluto tutte. Vi ringrazio. Grazie. Ringrazio la dottoressa Morzillo e chiedo scusa se mi devo assentare prima. Buon proseguimento. Grazie ancora, scusate l'interruzione. Ciao, grazie, il suo supporto. Sì. Anzi, dicevo, rischi di avvelenamenti. Sì. Anche io avrei detto la stessa cosa. Rischi di avvelenamenti. Ma non c'è problema. Sì. E poi, forse, anche a seconda di dov'è questa espansione nell'aereo urbano è anche pericolo di inondazioni. Esatto. Quello che vi ritroverete, che avete verificato voi, può anche, se lo ritroveranno i ragazzi, che possono esserci più collegamenti. Cioè, per gli stessi fattori, più rischi per l'uomo. Quello che si può fare è poi riportare il tutto in un cartellone in classe, tutti i singoli percorsi che hanno fatto i ragazzi. Ci saranno molte più carte, si possono trovare anche, provare a far raccontare quali sono le associazioni mentali che sono state fatte da un passaggio all'altro. Quindi, sempre, alla base di tutto, c'è la capacità dell'insegnante di introdurre, di gestire, di animare e quant'altro. Io vi lascerei, interrompo un attimo questa condivisione e vi lascerei gli ultimi dieci minuti con le parole davvero suggestive che vi lasceranno poi quel momento di riflessione anche postumo, spero, di Telmo Pirani, che è sempre strapolato da One Planet School e la piattaforma WWF, che voi da docenti potete comunque accedere liberamente, registrarvi e visualizzare tutti i materiali di cui vi ho parlato. Allora, condividi. Questa sarà l'ultima condivisione. Si chiama La Terra dopo di noi. Allora, ovviamente il video è lungo e io ho estrapolato dal minuto tre ci siamo al 10.30, insomma, sono cinque minuti. Ditemi se sentite sempre. Sono desiderato. Allora, gli scienziati sono messi a calcolare che cosa succederebbe se, partendo da domani mattina, non ci sono più umani sulla Terra, per qualche ragione che non ci interessa adesso indagare, che cosa succede alle nostre città, che cosa succede ai nostri materiali. Sentite? Il tempo di diperimento. Sì, sì. Ok. Il riempimento, di degrado della nostra civiltà, del nostro impatto sull'ambiente. E così scopriamo tante cose interessanti. Scopriamo quanto durano i nostri materiali, quanto dura la ceramica, quanto dura il bronzo, quanto durano le cattedrali di granito che abbiamo fatto già dall'alto medioevo in poi. E poi si scopre che tutta la nostra civiltà dipende da una manutenzione attenta, quotidiana. Scopriamo che già dopo una settimana si inonderebbero tutte le gallerie della metropolitana, che dopo poche settimane, pochi mesi, la vegetazione tornerebbe a rioccupare i posti che le abbiamo sottratto, che la forza degli elementi comincerebbe a sgretorare il cemento, l'asfalto, gli infissi degli edifici, i cartongessi, le coste tornerebbero ad essere spazzate, distrutte dal mare, ad essere rimangiate dalla forza del mare. Insomma, noi, la nostra vita dipende da una costante manutenzione. Cessata questa manutenzione, tutto molto velocemente tornerebbe verso l'entropia, verso una naturale entropia. C'è un aumento di disordine, quindi esplosione delle centrali nucleari, le dighe che saltano e così via. Però questo, se vogliamo, è l'aspetto più cinematografico che mi interessa anche di meno. Ci sono alcuni aspetti più imprevedibili ai quali uno non pensa. Per esempio, i nostri animali domestici. Oggi, se noi prendiamo tutti i mammiferi che vivono sulla Terra, li mettiamo su una bilancia, è un dato impressionante, e facciamo che siano il 100% del peso di tutti i mammiferi, noi umani rappresentiamo circa il 30% di questo peso, quindi siamo tanta roba. 7 miliardi e mezzo sono il 30% della biomassa di tutti i mammiferi terrestri. Ma il 60% e più sarebbero gli animali che noi alleviamo, quasi tutti in allevamenti intensivi, industriali, che, lo sappiamo, hanno un impatto sull'ecosistemi terribile, non soltanto per l'utilizzo degli antibiotici, per la produzione di azoto, ma anche in generale per l'emissione di gas, serra, per la quantità di acqua che consumano, quindi gli allevamenti intensivi meriterebbero un approfondimento a parte. Ma adesso guardiamo la biomassa, il 60% di tutti i mammiferi sulla Terra sono gli animali che noi abbiamo addomesticato e che noi alleviamo, suini, bovini, bovini, e il restante 3%, 3-4% è la fauna selvatico, cioè tutti gli altri, i leoni, i castori, gli orsi, gli elefanti, tutti gli altri mammiferi, soltanto il 3%, questo ci dà l'idea già dell'impatto tremendo che ha l'attività umana, non soltanto per la nostra presenza, ma anche appunto con gli allevamenti intensivi in questo caso. Bene, in nostra assenza tutta questa biomassa enorme, il 60%, miliardi di esseri viventi, verrebbero spazzati via, verrebbero lasciati a se stessi, non avrebbero più da mangiare, diventerebbero preda di tutti gli animali selvatici, di tutti i predatori, quindi ci sarebbe una moria generalizzata di tutti questi animali. E poi, e poi, in questi modelli passa il tempo e veniamo alla fine di questo modello, passa il tempo, rimangono solo rovine, passano i millenni, rimangono soltanto, che ne so, la grande muraglia, le piramidi, perché poi tutto sommato rimarrebbero ancora alla fine queste grandi realizzazioni mastodontiche umane. Poi immaginiamoci che passino tanti millenni, a questo punto la cosa diventa molto interessante, perché se passano alcune decine di migliaia di anni e immaginiamoci che un archeologo, un geologo torna sulla Terra, troverebbe ancora molti segni dell'umanità, benché i ghiacciai abbiano cominciato di nuovo a tornare, a triturare tutto quello che incontrano sul loro passaggio, però un archeologo attento potrebbe trovare per esempio ancora un sacco di plastica, perché la plastica ormai pensiamo che possa durare 70, 80, addirittura 100 mila anni, perché il calcolo è abbastanza semplice, la plastica che terribilmente per noi è usa e getta, dovrebbe essere il contrario, usa e non gettare mai e ricicla completamente, perché, lo sappiamo, la natura l'evoluzione non ha ancora prodotto per selezione naturale, ma succederà prima o poi, ma tra un sacco di tempo, dei batteri, dei microorganismi in grado di digerirla, in grado di degradarla, cioè di romperla e di utilizzarla come nutrimento, non ci sono e si calcola che ci vorranno circa 70, 80 mila anni, si calcola in base al numero di generazioni, quindi la plastica, in particolare le microplastiche che ormai impregnano purtroppo i nostri mari, addirittura gli abissi oceanici sarebbero ancora un segno dell'umanità e poi ancora, pensate che è stato calcolato che se noi non ci fossimo più da domani mattina ci vorrebbero addirittura 300 mila anni, quindi 300 millenni, affinché i gas serra che noi abbiamo immesso in atmosfera negli ultimi 12 millenni, prendiamo la larga fin dall'invenzione dell'agricoltura in avanti e possano tornare ai loro equilibri naturali, quindi 300 millenni prima che la CO2 e il protossido di azoto e tutti questi gas possano tornare ai loro cicli naturali, quindi torneremmo in qualche modo nel Pleistocene tantissimo tempo, quindi se tornasse un geologo tra 250 mila anni troverebbe comunque un'atmosfera alterata ancora dalle nostre attività. E poi, e poi ancora, passano milioni di anni, a questo punto la biodiversità tornerebbe ad essere esuberante, russureggiante come era prima e a questo punto davvero non ci sarà più traccia di esseri umani. Anche se quando abbiamo fatto questo modello la prima volta e abbiamo cominciato a discuterne con tanti scienziati, gli astropusici giustamente ci hanno fatto notare che abbiamo fatto un errore, c'era una dimenticanza di fondo, nel senso che se tra 50 milioni di anni un extraterrestre su Andromeda, nella galassia di Andromeda o dove volete, osserva la Terra, la vede in effetti deserta di esseri umani e non avrebbe probabilmente alcun motivo per pensare che ci siamo stati noi sulla Terra. Sarebbe tornata finalmente vergine dal punto di vista antropico, se non altro. Ma a 50 milioni di anni luce dalla Terra ci sarebbe ancora la bolla di tutte le trasmissioni radio e tv che noi abbiamo lanciato nel cosmo negli ultimi 70-80 anni. Quindi immaginatevi la situazione paradossale, questo nostro alieno vedrebbe la Terra senza esseri umani ma sentirebbe ancora tutte le trasmissioni radiofoniche. Ecco. Ecco. Anche questo assolutamente sconcertante. Cosa ne pensate? bene. Spero che induca voi a riflettere e che vi accompagni questa chiacchierata nel corso dell'anno dell'anno scolastico. Se avete dei dubbi avete sicuramente la vostra tutor di riferimento. di riferimento. Grazie. 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 Grazie.